Buonasera a tutti voi dall'Andrea Doria, siamo qui per il sorteggio della Coppa Italia All the Cup, nona edizione, alla mia sinistra Francesca, alla mia destra Elena ci aiuteranno nel costruire il tabellone di questa Coppa Italia Prego Francesca con la prima squadra sorteggiata della prima partita, vediamo dalle sue mani C'è il Vasco da Gama, il Vasco da Gama è la prima squadra, ora tocca ad Elena Contro il Bayern Monaco, quindi prima partita della Coppa Italia, Vasco-Bayern Monaco Prego Francesca con la seconda partita che viene composta da il Saint-Etienne La formazione francese che è arrivata alla vittoria nelle ultime partite dopo un periodo di digiuno Che affronterà il West Ham, il West Ham formato da dei giovani molto abili Quindi seconda partita, Saint-Etienne-West Ham Prego con la quinta squadra ad essere estratta La quinta squadra ad essere estratta è l'Inter, l'Inter formazione ostica con il capo cannoniere Ramon Che affronterà l'Atletico Madrid, è un vero scontro a vertice, l'Atletico Madrid si è rinforzato Ed ora le ultime due formazioni Ecco una delle ultime due, ovvero lo Swansea E sicuramente dall'altra parte ci sarà l'I-K, andiamo a vedere se sono stato bravo E infatti è l'I-K Andiamo a ricapitolare quindi il tabellone Vasco da Gama contro Bayern Monaco Saint-Etienne contro West Ham, Inter contro l'Atletico Madrid S-1-C-I-K Ricordiamo che la vincente del Cup andrà nella parte alta del tabellone finale dell'intero torneo All Cup Dall'Andrea Doria è veramente tutto, ringraziamo Francesca, ringraziamo Elena A tutti voi, un buon proseguimento di giornata A tutti voi, un buon proseguimento di giornata